siamo pronti bentornati su commento le vostre postazioni oggi episodio speciale perché ogni anno durante il mio compleanno faccio qualcosa che mi chiedete voi altri anni se state per esempio gli smr delle tastiere quest'anno facciamo commento le vostre postazioni di solito sento un pochettino cosa dite comunque abbiamo un bel po di postazioni da commentare come al solito like commenti e iscrizione sono i metodi con cui potete aiutarmi e supportarmi gratuitamente quindi fatelo subito e noi partiamo con le postazioni ok che cosa abbiamo qui qua abbiamo il signore che ci segue soltanto da febbraio 2024 ma adesso la vita è migliore soprattutto ci apprezza per il lavoro del prime day sul canale telegram a tutto il team ottimo lavoro ci apprezzano vorrei migliorare il keyboard management sotto la scrivania e eliminare quella mangrovia di cavi potresti consigliarmi qualche metodo efficace vista la situazione grazie mario allora vediamo un pochettino allora vabbè la postazione in realtà qua si presenta abbastanza pulita ma più che altro perché c'è tanto buio quindi è difficile distinguere i cavi qualcuno si vede ma niente di grave qua hai fatto in realtà una buona situazione col tuo case hai creato un'immissione d'aria c'è un'estrazione comunque le componenti non sembrano essere di fascia troppo alta quindi di per sé dovresti avere zero problemi come risolvere questa mangrovi di cavi che dicevi qui allora il metodo più semplice secondo me è dividerli per categoria che sia per comunicazione input output che sia per alimentazione che sia per lunghezza e una volta fatto questo su amazon ma anche dal ferramenta dal brico dal cinese trovi delle maniche fondamentalmente delle sleeve che si possono mettere intorno ai cavi per nasconderli un pochino secondo me sarebbe il metodo più semplice perché qui vedo un grosso groviglio per fare entrare tutto quanto nella canalina secondo me se riesci un attimino a togliere un po di lunghezza i cavi magari vedi se qualche cavo che passa in quella canalina non è un po troppo lungo e magari puoi sostituirlo e vedo quasi un metro di cavo che gira lì dietro o cose del genere spero che questo sia d'aiuto anche per altri qua abbiamo vincenzo che oltretutto guarda il mio canale il pc si vede molto poco però postazione classica rgb con dissipatore stock di amd piccola scheda video che sembra essere una mac di msi nuovamente monitor e pc carino secondo me dovresti rimanere sul azzurro viola rende meglio del rosso totale molto poco rilassante bellina la statua di po carinissima cable management devo dire te la sei giocata veramente bene molto pulito e pratico ciao mtt intanto complimenti per il canale sempre fribile godibile e informativo ea madonna quanti aggettivi mi hai dato ma grazie grazie ho approfittato dei prime days per cambiare il blocco cpu mobile ram dissipatore a madonna è cambiato tutto vediamo un pochettino cosa hai fatto no vabbè ma tu hai un nzxt phantom 410 è stato il mio primo vero case da gaming no vabbè grandissimo fammi vedere fammi vedere e sì che è lui è lui è il 410 ma è bellissima sta build cioè l'unica cosa che sta male è questa scheda video bianca ma in realtà t'ho considerato che il case fa vedere ben poco me lo ricordo bene è bellissima sta build super densa compatissima ok cable management devo dire è fatto a modo postazione molto clean ci sta c'è tanto spazio potresti utilizzare un po la parete non lo so potresti mettere dei poster potersi centralizzare un po i due monitor rimane acceso come c'è 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 del margine di espansione più che di miglioramento di miglioramento c'è poco sì ragazzi è proprio il phantom 410 io ce l'avevo arancione ovviamente con i miei colori preferiti bello oltretutto quello è un thermal right bravo hai aggiunto la ventola hai aggiunto la ventola questo case alla paratia laterale in plexiglass quando ancora si utilizzava questo materiale al posto del vetro ogni volta ragazzi mi obbligate a ok e devo dire il cable management è molto pulito complimenti complimenti mi ho sentito i complimenti qua abbiamo lele ma che carino ma che tipo di sedia è no hai vista una sedia da gaming così bassa e con le orecchie ma che carina adorabile che marca è perché hai due katana cosa ci vai con due katana nella postazione mannaggia che paura oh mio dio ma questa sedia si muove anche ma che carina anche la lingua che strano modello pazzesco raga no vabbè ma raga ma vogliamo parlare della postazione che è appoggiata su due forattini no vabbè micidiale da quanta roba di dragon oh mio dio ma questa sedia ovunque è così carina oh carina bellissima la postazione ma che pulita tutto bianco ma devo dire la tua sedia ruba un po' la scena ok cavolo il peso di questa ciabatta deve essere importante oltretutto vedo che anche tu sei vittima dei bricchetti qua c'è uno switch abbiamo una ps5 cable management di lusso portacavi che si sta inclinando al peso porca carino carino o addirittura è un copritorte per la tastiera figo bello il cosa a forma di nuvole vedo che insomma è una passione specifica per gli anime però devo dire scrivimi nei commenti che modello è la sedia perché è veramente carina la vorrei anche io se no bene ce l'ha un mio amico mi hanno detto che perde un po' di pelo in certi periodi non è sicuro oltretutto non so se l'hai notato ma dovrà lo capisco la disposizione cromatica ciao ale sono matteo 17 anni ti seguo da lontano 2020 con lo speciale 26k come sono i pc di amazon del 2020 quindi tu avevi 13 anni anzi perché l'episodio del 2020 in realtà è uscito nel 2019 alla fine del 28 dicembre 2019 me lo ricordo ancora quindi avevi tipo 13 12 anni e il piccolo micidiale vediamo la tua postazione matteo sono curioso che bella non è assurda vero in tutti non è assurda però ha preso ispirazione guarda è lo stesso che figata adoro queste cose bellissimo è per quello che mi piace mamma mia è la psicologia raga bello sì devo dire quello sfondo è meraviglioso cioè sta bene sta bene con tutto dai cable management molto ben composto bravo 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 presenza di un subwoofer questa postazione è molto piccola però secondo me è carina è un po' espositiva non lo so mi piace poi va bene lo sfondo ragazzi io lo ve lo dico sempre lo sfondo delle vostre postazioni fa l'ottanta per cento del lavoro e su uno schermo che è grosso quanto metà della vostra postazione scegliete bene il vostro sfondo con un colore che stia bene con il resto anche se vi piace un argomento cercate uno sfondo di quell'argomento che stia bene con la postazione non solo con l'argomento che vi piace poi potete fare quello che volete però è un consiglio bellissimo la scrivania è strano detto dai miei amici vediamo la scrivania è strano detto dai miei amici qua abbiamo un pc mi piacciono un sacco i watermark dei telefoni ma non è niente di strano questa postazione ma i tuoi amici sono degli infami solo la classica postazione da ragazzo giovane marco tech ha un ma è un casco e un cumulo di vestiti probabilmente la seconda lui non mette le monster lui mette le bottigliette d'acqua frizzante non mette i led lui mette gli ukulele fa morire raga allora sta foto è un miracolo perché devo essere questa foto è reale a differenza di voi che mettete a posto le vostre postazioni per sorprendermi marco tech qui mi manda tre bottigliette di acqua frizzante lui è vero è vero lui è real real non si vede niente di questa postazione marco il migliore il migliore oh se stai leggendo questo messaggio ti voglio dire che sei il mio youtuber preferito oh grazie ciao mi chiamo alessandro anch'io piacere sono uno studente universitario di vent'anni e sono entrato nel mondo del pc gaming nel 2019 montando il pc gaming con 365080 ah bravissimo sto leggendo in realtà solo che sono troppo lento e non so parlare veloce quanto leggo cavolo quanta roba quante caratteristiche sono curiosissimo fammi vedere fammi vedere che bella no ferma tutto non è scomodissima perché tutto cioè capisco per la finestra probabilmente per non avere la luce in faccia ma avere comunque la luce ma non è scomodissimo stare in questo angoletto qui sembra così piccolo bello bello il pc no oggettivamente bello ottimo dissipatore oltretutto un bel colpo d'occhio non hai scelto componenti esageratamente costose per soltanto valorizzare l'estetica figlio mio non sei scomodo lì nell'angolo cioè è molto clean è molto illuminata oltretutto bravissimo ma cavolo hai mezzo centimetro mi sentirei compresso più di un rar mamma mia daniele farina aspetta ho visto la mia faccia sovraesposta ma è un video recentissimo questo c'è già il potos il potos è lì da una settimana oltretutto sta cartacciando una foglia potos resisti ad ogni modo abbiamo una postazione oh 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 fermi tutti fermi tutti ma questo è un fan ma l'hai visto da me dimmi che l'hai visto da me oh grandissimo c'è il controller di starfield grandissimo miglior controller di xbox mai fatto esteticamente lo adoro l'ho quasi rotto ma questa è una storia solo per chi è arrivata alla fine del dlc di elder ring sapete perché l'ho quasi rotto allora wow ma tu guardi ma è nuovissimo sto video ma me l'hai mandato due giorni fa sta postazione oh beh beh tu hai poco spazio in te c'è la scritta fallout qua sopra non credo sia originale però è un ottimo case madonna quanto poco spazio che hai mi verrebbe un'ansia ma poi perché il mouse è davanti come usi le cose così devastante hai pochissimo spazio ma ti sei ingegnato molto bene fermi tutti ma tu hai il numero nominale dico nominale perché quello lì non è un counter fps li conosco bene ma tu hai il cosino nominale che indica gli fps il refresh rate nominale ripeto non effettivo del monitor ma oltretutto ho come l'impressione che tu sia un mio grande fan perché vedo molti oggetti di cui ho parlato nei miei video quello è il digital ne ho di Deepcool prima che li bannassero anche parte delle componenti di dentro le ho fatte vedere nei miei video stai guardando i miei video ma soprattutto hai il controller di Starfield sei un fan? eeeh vabbè ragazzi però cioè così cercate di giocare troppo facile qua cioè che tipo di scheda video è? no vabbè è pazzesco bellissimo ma ma che carino ha messo pure la zappa come se stesse tenendo la po- ma è troppo carino ma è adorabile ooooo avevo un gatto uguale quando ero piccolo adesso mi farai piangere è così carino anche questa postazione è carina però tu gli sto pezzo che non hai se non hai un monitor era così carino quel gatto guardalo che è adorabile non sto piangendo ho l'allergia sono genuinamente allergico è tenerissimo non ce la faccio è troppo bello ma quello è Mate in 2 oh 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 ma questo è Mate in 2 ma tu giochi a Mate in... ma è una foto vecchia no questa è una foto prima ma quello è Mate in 2 raga ditemi nei commenti se voi giocavate a Mate in 2 e che server io se non mi ricordo male ero in quello prima di Draco perché Draco venne fondato Draco con la C non come nel negozio venne fondato dopo il mio server come novità mi ricordo i miei iscrissi forse ero Hydra Hydra e giocavo sempre in CH1 non ricordo avevo il ciucco il ciucco medio non ero mai arrivato all'avanzato no era arrivato all'avanzato alla fine è vero con il mio guerriero livello 53 che tunnel di emozioni queste foto amico mio questo gatto è adorabile e questo è Mate in 2 grazie Francesco hello mi chiamo Giorgio e questa è la postazione di cui sono finalmente fiero vediamo subito amico mio questo è il prima e devo dire che qualsiasi cosa tu abbia fatto potrà essere un glow up qua c'era molto margine di miglioramento questa sembra la scrivania che se non sbaglio se non sbaglio è contenuta all'interno di uno shot di Annabelle quello in cui c'è la pazza bambola posseduta vediamo il dopo ma tu stai utilizzando ancora lo stesso uuuuuh tocco di stile hai riutilizzato la stessa scrivania eh sì eh sì ma quella è una birra ferma tutto allora io vorrei dire ma io credo credo signori signori della corte che quella sia una bevanda alcolica a base di malto e lupolo eh insomma dottore e cosa fa sponsorizza gli alcolici lei ma soprattutto perché ha letteralmente una palla di luce all'interno del suo case ma quello è Wall-E ma è carinissimo ma poi oddio non lo vedevo da un sacco di tempo quello è uno Yeti erano anni che non vedevo uno Yeti in una postazione wow ma poi degli scheletri che ballano e sicuramente stanno ballando spooky scary skeletons perché ballano solo quello di scheletri lo sanno tutti bella postazione mi piace che tu abbia riutilizzato la la scrivania che appunto era utilizzata se non sbaglio per poggiare i libri durante gli esorcismi nei film molto bello ovviamente sto scherzando potete utilizzare quello che volete ognuno del ragazzo ha il proprio budget io faccio solo battute per il meme ma va benissimo anche io sono partito con una postazione terribile e fermi tutti fermi tutti siamo arrivati a lui l'uomo la leggenda già comparso in un precedente episodio di More The News questo individuo vanta una delle postazioni più belle che io abbia mai visto in vita mia ma non solo perché è estremamente costosa ma non pacchiana non ha solo speso soldi l'ha personalizzata io l'ho vista la prima volta questa postazione la mia mascella si è letteralmente dislocata sul tavolo ed è tornato ho visto il nome Ferdinando siamo pronti ragazzi mi dispiace per quelli che stanno dopo Ferdinando salve mi chiamo Ferdinando Augelli e ti ricordo molto bene figlio mio 36 anni sei più tu padre mio che altro vivo a Solomeo nella provincia di Perugia e lavoro come data analyst in un'azienda di alta moda che individuo incredibile nel 95 ho iniziato ad appassionarmi alla saga di Warcraft io nel 2000 con Warcraft 2 me lo ricordo bene mai giocato a World of Warcraft e dopo quella di Diablo io prima Diablo e poi Warcraft Diablo nel 2001 che avevo 5 anni e mi cagavo in mano a giocarci Warcraft nel 2002 da ormai 20 anni gioco a World of Warcraft fra complimenti hai chiesto un mutuo tutte le armi e molte action figure sono fatte da me con la stampante 3D FDM e a resina incredibile raga queste sono le caratteristiche del suo pc non so ad elencarle tutte perché se no finiamo domani iniziamo signori prima di tutto bellissime bellissime le action figure in particolare l'alien che sale come se stia scalando nel pc meraviglioso sei un gran spendacione e si vede perché hai i triangoli i nanolith di Corsair che sono una roba che proprio la compri solo se hai soldi da bruciare proprio eh bello l'occhio di Sauro bella la mappa qui molto interessante che carino il peluche ma in generale ragazzi già qui iniziate a capire la densità di questa postazione bellissime le action figure wow è migliorata ancora allora voi dovete capire Ferdinando ha una postazione che in realtà può sembrare molto grande ma in uno spazio molto piccolo questo anche ha dimostrazione che si può fare tanto anche con delle stanze relativamente piccole vi basta avere una stanza un angolo da adornare come preferite poi ovviamente vi servono dei soldi e delle abilità tecniche di cui lui dispone ma qua ha fatto un lavorone è proprio cozy è meravigliosa guardate tutti gli elementi vediamo un po' di dettagli spade e cose che ha fatto lui il che è veramente incredibile ovviamente un quadro a cinque pezzi del Leech King vedo una grossa passione in generale vabbè l'ha detto effettivamente vent'anni di World of Warcraft vanno insomma alimentati come passione fermi però ha tre mouse ma non è che ha tre mouse che dici buttati sul tavolo ha tre mouse che si vede che usa oltretutto ha uno dei vecchissimi mouse di Corsair mi sembra che dispone di un quantitativo di tasti enorme perché sono perfetti proprio per World of Warcraft ha una tastiera con un pacco di tasti perché appunto World of Warcraft ha una sedia reclinabile per le console super comoda oh mio dio raga c'è troppa roba non riesco nemmeno a commentarla che figata mamma mia guardate il Cable Manage mamma guardate il Cable Manage ma tutto preciso sto ragazzo si è personalizzato tutto che meraviglia raga le passioni è proprio bello vedere qualcuno che si impegni così tanto in un progetto personale senza remunerazione perché oddio guardate i keycaps custom guardateli poi sono su una testiera di relativo dubbio gusto perché sappiamo che insomma Corsair non è la mia preferita ma è utile per il suo contesto quindi non gliela critico assolutamente mi fa il culo in ogni caso con postazione che bello quanti elementi di cose che ti piacciono guarda una Silvana's Pop si guarda c'è anche la testa del Leech King ma non ho paura ma anche questa cosa io ce l'ho questa la torretta RGB non so se l'avevi vista da me o se l'hai presa autonomamente ma devo dire che questi sono proprio elementi di chi ha tanti soldi amico mio di chi ha tanti soldi guardate quante cose guardate quanti elementi non finisce più ha pure l'Eco Show che gli dice la qualità dell'aria del suo studio è così completa posso dire che anche questa libreria che potrebbe sembrare un po' obsoleta non ci sta mai che bella la spada ci sono pure i Lego wow è incredibile è incredibile ma guardate quante cose non finiscono più guardate il Cable Management pure l'Ed qui dietro guardate il numero di action figure di cui dispone ufficiali fatte da lui guardate ma proprio la granularità dei pezzi che ha comprato perché non sono soltanto cose super iconiche sono proprio anche singoli pezzi di grande passione si vede la roba di The Witcher c'è un libro a caso delle cronache del ghiaccio del fuoco oh abbiamo un video fermi tutti ah fermi tutti che ci ha fatto pure il video e vabbè pure l'ingresso con l'impronta digitale io la sento io ho i brividi perché sento la passione che trasuda sto ragazzo e lo capisco condivido la tua soddisfazione con questa postazione in maniera talemente empatica che proprio ho i brividi è bellissima che bello è Ragnarossoro non quello è diablo ragazzi fate tantissimi complimenti a Ferdinando orgoglio italiano grandissima postazione Francesco io ti chiedo scusa avrei voluto che la tua postazione fosse prima di quella di Ferdinando perché adesso insomma abbiamo degli standard qualità TV un po' alti ma saremo gentili Francesco ha 14 anni quindi di per sé dobbiamo già essere gentili e ha creato la sua postazione meno di una settimana fa e ancora in fase di miglioramento non fare caso ai fili che pian piano sto mettendo in ordine va benissimo però ottimo inizio 4070 Super e 7800 X3D hai preso i migliori qualità prezzo del mercato bravo o giustamente dicevi che i cavi li devi aggiustare ti sei achitato in uno spazio veramente ridotto ma devo dire che hai delle grosse possibilità ti consiglierei di sfruttare meglio magari lo spazio verticale anche se comunque hai già iniziato c'è un principio di utilizzo devo dire molto interessante tastiera che è una 64% 63% giù di lì bianca buona scelta di mouse interessante hai molte cose di Logitech devo dire quel connettore wifi lì spero ti prenda bene il monitor potevi accederlo e soprattutto rubarmi anche tu lo sfondo Francesco ciao mi chiamo Gabriele ho 22 anni ti seguo da 5 anni ogni tuo video mi è stato utile per migliorare la postazione raga non fattete aggredirmi così mi emoziono uso il pc per tutto giocare a qualsiasi cosa Fortnite Minecraft Ghost Recon senza la H Atomic Heart SnowRunner senza che faccia la lista insomma non ho gusti troppo specifici beh mi sembra che ti piace la roba in cui spari o costruisci o spari e costruisci Fortnite o almeno lo facevi guardiamo un po' sta postazione il case è un pezzo di storia quel dissipatore di Corsair oltretutto se non mi ricordo male aveva avuto dei richiami per quanto riguarda problemi di perda di liquidi il fatto che tu lo abbia ancora in utilizzo è impressionante è uno stress test incredibile che penso nessuno mai nella storia sarà in grado di replicare ah è un VS650 un altro bello stress test della mia ansia wow soprattutto perché quella è una Sapphire è una Sapphire Toxic ah quella era una 270X Sapphire però ah ok scusa non avevo letto bene la descrizione dopo c'è un'evoluzione ok mi piace mi piace bello sfondo mi piace toglierei le icone solo per lo showcase ma non per altro in realtà va benissimo monitor super appeso mamma mia che ingegnerizzazione bella dai è pulita è un spazio molto compatto oh un custom loop oltretutto hai recuperato la la ventola ma quello è un vecchio il vecchio Cougar quello mi ricordo c'era anche un mio amico ma è un custom loop sul 5800 X3D ti capisco ti capisco ah custom loop che entra in un be quiet ah no solo le ventole sono be quiet ok tastiera interessante bella tondeggiosa bello setup un mix di nuovo e di vecchio perché mettete tutto nell'oggetto ragazzi cioè perché me l'hai mandato tutto nell'oggetto grazie a te però dici ah ho fatto la passione per il pc ho solo 16 anni con i soldi risparmiati fammi vedere cosa hai fatto con questi soldi risparmiati figliomi che c'hai un terzo dei miei anni a momenti non è vero dai non sei così piccolo ok hai un bel po' di cable management da fare hai qualcosa da fare quest'estate in realtà il cable management del pc è fatto particolarmente bene è tolto questo cavo selvaggio che naviga verso la parte frontale carino il supporto che hai fatto con il cosino di star wars ah bravo iscriviti aumenta gli fps fallo anche tu iscriviti aumenta quei dannati fps grazie ai miei video non so se funziona però fallo oh che carino ma un sacco di volte il mio canale bella griglia quella del corsair riconosco il case simile al mio quello è il 4000 per avere 13 anni sei messo benissimo cioè onestamente il pc è molto pulito vai benissimo come sei ci sta veramente ho visto una cosa che mi fa un po' preoccupare Alberto ci manda questo pc ok rgb rgb rog rog ovviamente ragazzi più sono piccoli più gli piace rog non so come sia questa cosa comunque ok vedo un sacco di rgb un sacco di rgb aspetta un attimo tu hai la postazione in sala da pranzo e quindi probabilmente questo cable management ti è stato imposto dalla parte genitoriale mi piace il contrasto tra le tre tovaglie e la parte di tecnologia pc e tutto quanto è una cosa molto carina molto familiare sono cose che ovviamente quando ero piccolo ho dovuto affrontare anch'io cioè nel senso lo spazio non era tanto non avevo una postazione in cucina perché la nostra cucina era già piccola però è bello è bello vedere questi contesti ti sei arrangiato bene ti sei messo bello stretto nel tuo ambiente mi piace mi piace Gaetano oh da febbraio 2018 fino a giugno 2023 sì me lo ricordo bene ho usato la ps4 dopo 5 anni la mandai in pensione e decisi di fare il mio primo pc ecco le componenti spampà guardiamo questa evoluzione prima postazione letteralmente un mobile e una sedia siamo tutti partiti da qualche parte ragazzi seconda postazione una foto orizzontale in una foto verticale è un pochettino migliorata la situazione il ragazzo ha recuperato un mobile che è una scrivania ok ah ecco qua abbiamo uno zoom ok almeno qua è una sedia oh migliorata la sedia attenzione utilizza la sedia guardate che economista utilizza la sedia come supporto per il suo pc ora mamma mia il big change che grande oh 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 fermi tutti fermi tutti upgrade 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 abbiamo una nuova scrivania vera sto giro che tiene anche il pc mi sei piaciuto guardate gli rgb ovviamente tutti quanti abbiamo il sole nella parte frontale del nostro pc bella upgrade al pc bravo 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 beh è cambiata anche la sedia di nuovo ah no è solo che sull'altra ci avevi vestiti mannaggia voi che usate le sedie come armadi lo faccio anch'io tranquilli cable management devo dire è veramente eccellente pulitissimo fantastico si vedono le pedate che dai probabilmente mentre giochi contro il muro tranquillo anche il mio muro è così per quello ci metto i pannelli dietro bello cioè ragazzi considerate che questa è la sua postazione di ora e da qualche parte come tutti è partito cioè da un cubo da un callax di Ikea il ragazzo si è evoluto fino a questo e un giorno si evolverà di più è molto molto ispirante Enrico nel suo angoletto very chill mette il suo pc per terra ma aspetta perché i due pc perché sono tutti spenti no non sono spenti tu mi hai iscritto prima l'ho letto non ci sono gli rgb molto 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 compresso il nostro Enrico e chiudiamo finalmente con Matteo che ha il più alto numero di app e cose nella storia dell'essere umano figlio mio ma tu lo sai che le cose le puoi cercare ma ci sono anche doppioni di stesse app wow ma poi hai anche altre app sull'altro momento wow ma tu lo sai vero che esiste la barra di ricerca di Windows non ti serve di averle tutte lì questa è la postazione originale questa è la sua postazione dopo secondo me amico mio se metti a posto e migliori un pochettino il cable management puoi avere una postazione ancora migliore cioè secondo me puoi recuperare ancora spazio però hai fatto sicuramente un glow up incredibile da una all'altra dai diciamo cioè c'è proprio una differenza sostanziale scherzavo non era l'ultima mail abbiamo Davide Liotto che avevo lasciato indietro mi dispiace Davide perché è veramente una bella postazione tolto il fatto che come tanti altri sei un collezionista ossessivo di monster per qualche motivo vi piacciono un sacco le monster guardate quanti dettagli nella postazione quante cose raccolte un sacco di piccoli elementi mi piace poi quanto colore un botto di action figure vi piace proprio sporle con questa questa qui credo che la vendano da Ikea perché effettivamente l'ho vista in un sacco di postazioni e se non mi ricordo ce l'aveva anche Blink anni fa carina questa postazione che fa a angolo oh ma quanti colori è un bel colpo d'occhio devo dire è un colpo d'occhio molto adorabile tanto personalizzato oh mio dio ma quanto sei carino ma è il gatto di core è uguale non proprio però è che oh mio dio ma è un colpo di scena ridammi il gatto non lo voglio vedere il resto c'è il gattino che carino ma il naso rosa ma è adorabile no che bello ti sei fatto la postazione della switch con i cosi della switch che figata questa non mi ricordo se ce l'ha Austin Evans oppure Mr. Juste Boss non mi ricordo a chi l'ho vista ma l'ho vista gigantesca fatta con un ola da 80 pollici loro sono sbrufoni tu sei una persona umile con un gatto carinissimo guardiamo un'ultima volta il gatto prima di andare eeeh e con questi adorabili micetti io vi dico che è finito l'episodio grazie di questo regalo grazie di questo regalo di compleanno non ce la faccio e soprattutto grazie a Ferdinando per aver mandato una delle postazioni più belle d'Italia veramente complimenti ma soprattutto complimenti a tutti voi ragazzi che ogni giorno mettete passione nelle vostre postazioni perché l'importante è quello non spendere tanto ma essere appassionati per quello che facciamo studiare ideare migliorare non importa se spendi un euro o duemila l'importante è che lo fai bene e che ti piaccia e che sia tuo ricordatevelo sempre per il resto per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo voi state su Modern Tech buone ferie se in questo momento siete in ferie buone cose se invece non lo siete noi ci vediamo al prossimo video voi state su Modern Tech salvo già